E vi ricordo che nel MOOC del Digitale Terrestre di Rete 7, gli appassionati dello sport e gli amanti dei motori potranno avere accesso gratuitamente ai canali monotematici Super Tennis e Nuvolari. Io ho alcune proposte per gli appuntamenti di venerdì. I fratelli di sole dadi in concerto al Nichilino Sound Fest, mentre invece Fiorella Mannoia si esibirà sul palco dello spazio Shopville Legru. E venerdì 9 luglio la Chiesa Cattolica celebra Santa Letizia. Vi lascio ora al Meteo, all'Oroscopo e a tutti gli altri programmi. Vi ricordo che potrete rivedere i servizi dell'Informa 7 sul nostro sito internet www.rete7.it Grazie per essere stati con noi, buona visione e arrivederci al prossimo appuntamento del nostro telegiornale.